farla non puoi la vita come vorresti almeno questo tenta quanto più puoi non la svilire troppo nell'assiduo contatto della gente nell'assiduo gestire e nelle ciance non la svilire a furia di recarla così sovente in giro e con l'esporla alla dissenatezza quotidiana di commerci e rapporti sinché divenga una straniera uggiosa